Noi sentiamo questa grande responsabilità perché sentiamo finalmente che si possono realizzare quelle cose che gli italiani aspettano da 30 anni e sono fiducioso perché sono sicuro che il Presidente della Repubblica saprà guidare questo momento con autorevolezza, con sensibilità, come ha sempre fatto. Oggi per noi inizia la terza Repubblica e la terza sarà finalmente la Repubblica dei cittadini italiani. Grazie.